Buongiorno a tutti, io sono Giancarlo Degli Esposti, Product Manager di Orchestra SRL. Siamo qui per parlare di che cos'è Orchestra prima di tutto, che cosa fa, quali sono i suoi prodotti e come possiamo portare un reale e concreto valore aggiunto alle imprese che adottano sistemi di industria 4 e 5.0. Retuner è la suite di prodotti Orchestra che è specificatamente sviluppata per le PMI e ha il compito di riaccordare tutte le PMI sullo stesso spartito dell'industria 4.0. Vi mostro ora un breve video di presentazione. Grazie, prodotti, processi, tassi, mantenimenti, breakdowni e alcuni downtimes. Ogni elementi sembra di essere beati al suo ritmo personali, regardless di quello che succede all'interno. Nella visione è quella di una fabbrica collegata, harmonica e benvenuta. Overtime, abbiamo perfettato la crafte di ottenere macchini di superi interagire con i nostri compagni. Complex? Not for us. It was all about finding the perfect tune. Bene, come avete potuto vedere tutto sta nel trovare il giusto spartito su cui tutte le imprese possano andare ad operare per aumentare il valore aggiunto al di là degli incentivi Industria 4.0. La suite di prodotti Orchestra in particolare è costituita da tre elementi principali. Un primo elemento che consiste nell'interconnessione delle macchine direttamente a bordo campo attraverso tutti i diversi protocolli di comunicazione. Stiamo parlando sia di macchine nuove, quindi con le più recenti tecnologie, ma anche di macchine vecchie, poiché possediamo anche una componente hardware che è in grado non solo di interconnettere la macchina, ma anche di aggiungere ulteriori servizi innovativi, specificatamente sviluppati per gli operatori in assistenza degli operatori direttamente sul campo. La seconda componente consiste nel monitoraggio e nel controllo e diagnostica dei macchinari in tempo reale e visualizzare tutti i dati provenienti dalle macchine, così come anche l'efficienza della macchina e in sostanza come la macchina sta operando in quel particolare momento e come ha operato in passato. Infine, per tutte quelle aziende, come spesso accade nelle PMI, che non possiedono un sistema di controllo della produzione, abbiamo sviluppato il Minimes 4.0, che è la soluzione di Manufacturing Execution System, specificatamente pensata proprio per le piccole e medie imprese. Quindi è un sistema estremamente user friendly, ma assolutamente completo nelle sue funzionalità e nel controllo della produzione e nel controllo delle macchine che sono state interconnesse. Questo vale sia per queste ultime, ma anche per le stazioni manuali. Quindi, oltre agli incentivi di cui moltissime aziende negli ultimi anni hanno beneficiato, la suite Retuner non solo vuole offrire la compliance con le attuali normative vigenti, ma anche un reporting certificato come onere della prova del mantenimento dei requisiti Industria 4.0 per l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo infatti sviluppato un sistema di reporting automatico che genera, in collaborazione con i nostri partner, genera quelle che sono tutte le reportistiche necessarie per dimostrare che non solo il sistema è utilizzato, ma che l'azienda è conforme con le normative vigenti. In particolare, che cos'è il minimess? Il minimess è un sistema di pianificazione e controllo della produzione a partire dalle commesse di lavorazione. La produzione viene poi tenuta sotto controllo attraverso un'interfaccia dedicata nella quale si può vedere tutte le lavorazioni che sono state pianificate o che sono ancora da fare. Infine, è possibile consultivare non soltanto i tempi di lavorazione effettiva delle macchine, ma anche i tempi non a valore aggiunto che vengono registrati direttamente dall'operatore, poiché dove non arriva l'elettronica e l'informatica deve arrivare per forza l'uomo e questa è una componente essenziale per riuscire ad ottenere dei dati assolutamente certi e che possano dare un reale e concreto beneficio dal punto di vista monetario, ma anche di saturazione degli impianti produttivi alle nostre aziende. Ora, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla normativa, è necessario che il sistema che viene adottato porti un reale e concreto beneficio che non può limitarsi solamente al controllo della produzione, ma anche fornire dei dati utili al cliente e all'azienda su come sta evolvendo il processo produttivo direttamente in tempo reale. Abbiamo sviluppato insieme a uno dei nostri partner un modulo di business intelligence che consente di analizzare in tempo reale e costantemente i dati provenienti dalle macchine e i dati delle commesse per verificare l'andamento delle stesse, segnalare eventuali anomalie ed eventuali colli di bottiglia nel mio processo produttivo, calcolare infine i tempi e le risorse impiegate in ogni commessa per poter migliorare infine la preventivazione e come risultato finale quindi essere sempre più competitivi sul mercato. Inoltre non ci stiamo muovendo soltanto dal punto di vista del controllo della produzione, ma ci stiamo muovendo verso un mondo costituito da sistemi sempre più smart, intelligenza artificiale, machine learning e ci stiamo quindi muovendo dall'industria 4.0 alla sua naturale evoluzione, cioè l'industria 5.0. Nel paradigma dell'industria 5.0 l'operatore, l'uomo torna ad essere parte integrante e fondamentale del processo produttivo, perché è l'operatore a bordo macchina il primo a sapere quando e se si verifica un problema di qualunque tipo. Abbiamo infatti sviluppato un nuovo concetto, quelli che noi chiamiamo i servizi digitali di prossimità. In sostanza questi sono servizi che possono essere installati direttamente sulla nostra elettronica, interamente disegnata e progettata internamente, da qualunque servizio esterno e questi servizi rendono l'operatore in grado di performare differenti task completamente a mani libere, semplicemente con l'ausilio di dispositivi wearable o di realtà aumentata. L'obiettivo finale, come ho già detto in precedenza, è l'aumento della competitività dei nostri clienti. Questa è la nostra missione. Quindi questo può avvenire attraverso il supporto attivo degli operatori, il miglioramento continuo e l'aumento della produttività attraverso l'analisi in tempo reale dei KPI, la consultivazione e controllo dei costi per singola commessa, prodotto, macchina o operatore e infine ovviamente il monitoraggio continuo dell'efficienza delle macchine. Tutto questo potete vederlo direttamente al nostro stand per una demo al padiglione 13P, stand A66, dove potete inoltre trovare tutti i nostri partner costruttori di macchine per la lavorazione della lamiera. Grazie. Grazie.